E' bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di 10 curiosità su un personaggio, una cantante, amata da molte ragazze, ma ascoltata anche da alcuni ragazzi. E' una cantante, ma anche personaggio televisivo, ha fatto alcune serie e mi sto riferendo ad Ariana Grande. Quindi partiamo subito con le 10 curiosità su Ariana Grande. Numero 1. Sapevate che sua madre pensava che sarebbe diventata una serial killer, data la sua notevole ossessione, diciamo, verso i film horror, e proprio perché girava in casa con delle maschere horror. Quindi immaginatevi come sarebbe diventata se fosse stata una serial killer. Numero 2. Ha avuto degli incontri extrasensoriali con dei demoni. Lei si è recata in un cimitero, fondamentalmente, ha detto che ha avuto questi incontri e si sentiva quasi schiacciata da questa presenza di qualche demone. E chiaramente ha detto anche che sentiva dell'odore di zolfo. Numero 3. Ascolta spesso la musica di un gruppo, mi sembra si chiami Shangri-Las, perdonatemi se non so pronunciarlo, ed è il suo gruppo preferito perché lo ascoltavano i suoi nonni. Numero 4. Diciamo che quando non ha i tacchi cammina sulle punte. Infatti lei adora tanto camminare sui tacchi, adora tanto, diciamo, questa sensazione di sentirsi magari più alta, che quando non ha i tacchi cammina sulle punte. Numero 5. Dormi nuda. Eh, sì, dormi nuda. Numero 6. Ha avuto dei problemi con i denti del giudizio. Numero 7. Ha una vera ossessione per il mare e le creature in marine. Numero 8. È un amante del giardinaggio ed è una vera dea dei fornelli. Numero 9. Ha paura dell'altezza, però adora le montagne russe. E numero 10. Il suo gioco preferito è il Monopoli, infatti ci giocherebbe in Eterno. Ok ragazzi e ragazze, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace. Condividetelo. Iscrivetevi al canale se mi state guardando su YouTube. Se invece siete su Facebook, premete sul tasto segui, così rimarrete sempre aggiornati sui miei video. Ok, bella a tutti, un bacione e al prossimo video.